L'unica certezza fino ad ora è che siamo l'ultima provincia. Altra certezza è che io sto aspettando di conoscere le istruzioni per le quali dovremo supportare questo screening, che ovviamente come i cittadini sanno siamo a completa disposizione della ASL e della Regione per fornire tutta l'assistenza che ci verrà chiesta, però c'è molta delusione perché ad oggi non sappiamo ancora la data d'inizio di questo screening, non sappiamo quindi la cosa più importante e quindi sapere quando la popolazione verrà interessata. Speriamo di saperlo da qui a breve. C'è una ripresa, in generale il direttore della ASL comunica che abbiamo un indice RT provinciale elevato e quindi c'è un indice che appunto ci sta ad indicare, scusate la cacofonia, che c'è una ripresa di questa pandemia. I numeri su Francavilla anche, sono in leggera salita, però allo stato attuale non mi sembrano così preoccupanti. Una cosa un pochino strana che ho sentito stamattina in riunione è quella che quando vengono forniti appunto a voi della stampa i numeri, vengono forniti i numeri in base alle residenze. Invece noi dall'inizio della pandemia ovviamente non ci basiamo sulla residenza anagrafica, ma sull'effettiva appartenenza a un territorio, perché io potrei avere un residente, un positivo, che pur residente anagraficamente affoggia o a Bari, ma ce l'ho qui sul territorio e quindi lo conto, così come non conto un residente fittizio a Francavilla che sta vivendo a Pescara piuttosto che a Chieti. Ecco, c'è un po' di confusione da questo punto di vista, c'è stata sin dall'inizio di questa pandemia. Spero che finalmente si vogliano formare dei tavoli tecnici nei quali coinvolgere noi sindaci, che non siamo mai stati coinvolti in queste situazioni. Abbiamo dovuto fare il famoso fai da te, l'abbiamo fatto chi bene, chi male, non lo so, però io ci sto mettendo tutto l'impegno e continuerò così per la tutela dei miei cittadini. Chiudere il quadro, parliamo anche di scuole, sindaco, perché hanno riaperto anche le superiori da qualche giorno. A Francavilla tutto normale, tra l'altro ingressi scaglionati degli studenti. Per ora tutto normale, non abbiamo segnali, però purtroppo i segnali arrivano con un po' di giorni di ritardo rispetto all'evento. e quindi speriamo che le conseguenze non si sentiranno.